Partita di cartello sabato 25 febbraio alle 19 al Palace Portestra, la Mescolabasca e Tarezzo affronterà la stosa cucina Virtus Siena. Dopo il successo sul campo di Cecina, il calendario mette di fronte alla squadra di cocce evangelisti un'altra potenza del campionato, quella Virtus, rinforzata degli arrivi di Pavanic, del Maso e la Fite, che è reduce da nove successi nelle ultime dieci uscite e che nell'ultimo turno ha letteralmente dominato la capolista Prato. A complicare ulteriormente la gara, una settimana non facile per l'Amen, che si è trovato a non potersi allenare al completo a causa dell'influenza che ha colpito alcuni giocatori, che faranno comunque di tutto per essere della partita e dare il proprio apporto alla squadra. L'appuntamento per tutti i tifosi dunque è alle 19 di sabato 25 per un classico di queste ultime stagioni di Serie C Gold.